Ciao a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. Oggi non possiamo non parlare della situazione che sta avvenendo nel nostro Paese con un governo, sì, con due mesi, ormai tre mesi che si trascina questa possibile soluzione che non arriva mai di un governo dopo le elezioni del quattro marzo. Ma io volevo dare una visione diversa da quella che leggiamo tutti i giorni sui giornali e la televisione che ci riempie, questa battaglia che sembra fra grandi personaggi, chi fa le bizze, voglio il parlamentare, voglio il ministero X, una persona Y e via dicendo e quindi non si forma il nuovo governo. La linea guida è quindi un punto di riflessione per, io parlo sempre ai, scusatemi, ma non è l'offesa, ai proletari, alla gente che tutti i giorni va al lavoro, non ha possibilità di informarsi più di tanto. Io ho delle linee guida che invito, che mi ascolta ad andare a leggere e che è quella tracciata ormai da 150 anni, che è quella di Carlo Marx e soprattutto il libro Il Diciotto Brumaio, dove, come scrive Engels nella prefazione del compagno e l'amico di Marx nella terza edizione tedesca, dice che in questo libro che Marx traccia la storia del colpo di stato di Luigi Bonaparte, Napoleone III, cosiddetto, e quindi sembra dell'uomo forte, l'uomo che è riuscito ad imporsi e ha fatto questo colpo di stato. Invece lui dice che nella prefazione, dice che Marx metteva in luce la logica interiore, non quella che noi vediamo alla superficie, che riduceva il miracolo del 2 dicembre, cioè il colpo di stato, è risultato naturale, necessario, di quello sviluppo logico e nel farceano aveva bisogno di trarre l'eroe, trattare l'eroe, quindi Napoleone III, del colpo di stato, se non col disprezzo da lui giustamente meritato. E il quadro fu disegnato con tanta maestria che ogni nuova rivelazione fatta in seguito non ha fatto che apportare nuove prove della fedeltà con cui esso, Marx, riproduce la realtà. Questa mirabile comprensione della storia quotidiana nel suo sviluppo, questa chiara penetrazione degli avvenimenti, ne ho messo il tesso in cui si compiono, è di fatti senza esempio, quindi era il primo esempio, il primo tentativo e ben riuscito. Poi di trattare gli eventi storici col materialismo storico, con quella teoria, con quella legge più che teoria, di cui Marx ed Engels svilupparono per tutta la loro vita. E fu proprio Marx, continua Engels, a dover scoperto prima la legge dell'evoluzione storica, la legge secondo quale tutte le lotte della storia si svolgono sul terreno politico, religioso e filosofico o su un altro terreno ideologico. In realtà non sono altro che l'espressione più o meno chiara di lotta fra le classi sociali, secondo la quale l'esistenza e quindi anche le collisioni, quindi anche quelle lotte, quelle scaramucce che vediamo tutti i giorni, di queste classi sono a loro volta condizionate dal grado di sviluppo della loro situazione economica, dal modo della loro produzione e dal modo di scambio che ne deriva. Questa legge, che ha per la storia la stessa importanza che per le scienze naturali, la legge della trasformazione dell'energia, gli fornì anche la chiave per comprendere la storia della Seconda Repubblica Francese. In questa storia egli ha messo alla prova la sua legge e ancora oggi, dopo tutti quegli anni, dopo 33 anni che veniva ristampato dalla pubblicazione, veniva ristampato il 18 Brumaio, quindi Engels dice dopo 33 anni dobbiamo riconoscere che questa prova è stata superata in modo brillante. Quindi messa a prova questa legge, la legge funzionava, la chiave di lettura della storia degli eventi storici nel momento in cui avvengono. Non è la storia fatta dalle bizze di partito X, dal leader Y, ma da forze sociali, da interessi che vanno in un determinato momento in collisione. Ebbene, noi viviamo un periodo dal 2007 di crisi economica profonda e questa crisi economica profonda ha trasformato e creato determinati interessi che questi interessi oggi vanno in contraposizione agli altri. Questi interessi che vediamo comunque combattere degli interessi economici alti, cioè non quelli del proletariato che si danno battaglia per, in questa situazione di crisi, per perdere meno dell'avversario, perché in questa situazione si stanno perdendo un po' tutti, ma i gruppi economici, ma perdere meno vuol dire fregare, scusate il termine, l'avversario. Quindi, ritornando a noi, le elezioni furono vinte da due coalizioni, già da due partiti, la Lega, che ha preso più voti, ma faceva parte della coalizione del centrodestra con il 17% e le 5 Stelle, il partito unico che non si era coalizzato, con il 32%. E si diede l'inizio, lì poi per un periodo non si parlava, non si tentò di fare un governo, diciamo, prima fu dato il mandato a Salvini, poi a Di Maio, poi di nuovo a Di Maio e si arrivò alla situazione di questi giorni, dove sembrava tutto fosse fatto, fosse dato l'incarico a Conte e poi oggi e ieri il patatrac e di conseguenza è quello che abbiamo sentito oggi con Cottarelli, poi vediamo che figura è, chiamato dal Presidente della Repubblica, più o meno nelle sue funzioni, di rifiutare un ministro. Vabbè, questa è la situazione, però l'inganno, la cosa che appassiona tanto noi ultimi, cioè noi proprietari è di essere partigiani o da una parte o dall'altra, o da 5 Stelle o da Salvini o dalla parte del PD. No, noi come proprietari non dovremmo assolutamente far parte di nessuno, dovremmo far sentire la nostra voce di cosa vogliamo. In realtà ci appassiona, vedo, sento parlare anche all'interno del mondo del lavoro, no? Si appassiona questo, ma colpo di Stato, di Maio, Lega, eccetera, ma la domanda a noi che stiamo lavorando tutti i giorni e che facciamo fatica a arrivare a fine mese, noi che facciamo la gig economy, cioè l'economia dei lavoretti, cosa facciamo? Stiamo zitti, ci appassioniamo a queste cose o iniziamo a dire noi non vogliamo una società dell'1% che detiene il 90% della ricchezza e noi il 99% che la creiamo non abbiamo assolutamente niente, siamo schiavi di questa situazione, dobbiamo lavorare come somari, senza offesa per nessuno, no? Per mantenere e dare profitto a questa economia, no? Che si sta uccidendo la specie umana in generale attraverso inquinamenti che pur di produrre e pur di creare profitto ci sta uccidendo. Beh, sullo sfondo comunque c'è la crisi economica. Leggo da televideo di oggi alle 11.32, ad aprile i prezzi della produzione industriale registrano un calo del 0,4% in base mensile. Quindi è la comunicazione dell'Istat. Quindi il segnale che la produzione industriale, il calo dei prezzi vuol dire che i prodotti non vanno venduti e pur di venderli, pur di fare il profitto si abbassano i prezzi. E questo è lo sfondo dove si svolge questa diatriba. Quindi io leggo alcuni appunti che avevo fatto due o tre giorni fa, ma sono ancora validi. E abbiamo, io facevo, c'erano due proposte in palio. C'era il governo tecnico e il governo politico che Mattarella aveva messo in piedi. Quindi il varo di un governo tecnico era destinato a proporre al Parlamento delle misure economiche e finanziarie funzionali alla manutenzione dell'economia capitalistica. E se la situazione interna e internazionale lo richiedesse, a proporre un asprimento delle leggi in materia di ordine pubblico, come risposta a una crescita del conflitto di classe interno e all'approvazione parlamentare di eventuali interventi militari a fianco della Nato e degli USA nei vari teatri di confronto tra conglomerati capitalistici rivali, tipo Siria, eccetera. In secondo luogo, un varo di un governo politico basato su un accordo fra 5 Stelle e Lega con l'obiettivo di portare il Paese a nuove elezioni entro il 2018. Allora, questo era lo scenario due o tre giorni fa, ma le considerazioni vanno bene anche adesso che la situazione è cambiata, ma sempre sullo sfondo, come dicevo prima, sono la base economica che muove gli interessi. Gli attori sono degli strumenti in mano a questa situazione sotto economica. Allora, abbozziamo una ipotesi di lettura che valga anche come risposta alla seguente domanda. Perché le forze politiche presenti nel nuovo Parlamento non riescono a raggiungere un accordo? Allora, le interpretazioni psicologiche le poggono al centro l'analisi dei fattori personali, cioè i caratteri dei vari leader e il ruolo che giocano nell'attuale balletto politico. Le ambizioni particolari di X, Y, Z oppure di Tizio e Caio, in questo schema, no, sarebbero determinanti e quindi solo la rinuncia di Tizio a proporsi come capo dell'esecutivo o di Caio a voler essere presente nel futuro esecutivo potrebbero sbloccare l'inghippo. Non nego, come anche lo faceva Marx nel 18 Brumaio, che i fattori psicologici, espressione di ambizioni personali e volontà di dominio individuali del leader non giochino un ruolo nel divenire politico dopo il 4 marzo. E tuttavia queste ambizioni o volontà personali sarebbero comunque da collegare a diversi partiti politici i cui leader sono espressione. Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla nascita dei partiti così personali incentrati sulle figure carismatiche e al declino dei partiti programma. Il problema è valutare questa trasformazione, cioè cosa significa dal punto di vista socio-politico. Se studiamo bene la storia scopriamo che il fattore personale e dunque il ruolo dei capi carismatici è presente anche in altri contesti storici, ma noi comunque non lo riteniamo determinante, cioè decisivo almeno all'ultima istanza. Allora potremmo anche chiederci, senza dilungarci troppo sul contenuto di questa affermazione, se noi siamo invece le stesse ambizioni e volontà personali da correllare all'esistenza di interessi vitali, economici, di una certa classe sociale o addirittura di una componente particolare. La teoria marxista qui ci guida verso una lettura della struttura dell'attuale balletto politico, aiutandoci a scorgere i fattori economici preponderanti in ultima istanza, come ha fatto Carlo Marx e ci insegna a fare, dietro le contese, apparentemente solo personali dei validi leader e partiti. In effetti, dietro il polverone di parole contenute nelle diverse interviste e nella dichiarazione rilasciata dai vari attori politici, si intravedono almeno due tendenze collegate a differenti interessi socio-economici capitalistici. Dopo questo voi fate le vostre considerazioni, dopo quello che dirò fate le vostre riflessioni. In primo luogo, l'interesse del capitale finanziario nazionale e internazionale, propenso a continuare la somministrazione di politiche economiche e fiscali, lacrime e sangue, imperniate sul dogma del pareggio del bilancio, sulla riduzione apparente del debito pubblico, che peraltro è uno dei modi di essere capitale finanziario, e dunque sulla compressione del salario diretto, cioè retribuzioni, e indiretto welfare, e sull'aumento della tosatura fiscale, cioè lo sfruttamento indiretto. L'incremento del saggio di sfruttamento necessario al ralentare la caduta storica del saggio del profitto si manifesta in questa tipologia di interventi, come espressione di un ulteriore tempo di lavoro proletario in modo indiretto. Aumento dell'imposizione fiscale e in modo diretto diffusione di tipologie di lavoro precarie e sottopagate soprattutto fra i giovani. Alla fine gli interessi aspettanti al capitale finanziario detentore del debito pubblico sono garantiti dall'incremento del prelievo fiscale sui proletari, cioè attraverso lo sfruttamento indiretto, cioè al di fuori del luogo del lavoro, mentre la diffusione di tipologie di lavoro precarie e sottopagate, soprattutto fra i giovani, sfruttamento diretto, cioè all'interno del luogo di lavoro. Rappresentano un momentaneo vantaggio soprattutto per il capitale industriale e in via derivata per il capitale finanziario, comunque presente in forma di azioni e obbligazioni nelle varie SPA che operano nel settore industriale. Il governo tecnico consentirebbe la quasi certa preponderanza del capitale finanziario, soprattutto con l'incremento del prelievo fiscale e i tagli del welfare finalizzati a raccogliere il denaro per pagare le quote periodiche annuali o semestrali di interessi sul debito pubblico. Ma alla lunga queste politiche economiche, lacrime e sangue, non possono reggere perché l'imporvenimento di larghe fasce sociali, togliendo reddito i proletari attraverso la compressione del salario diretto e indiretto, cioè del salario complessivo, salario diretto e indiretto come dicevo prima, toglie anche potenziali clienti alle merci prodotte nel settore industriale dell'economia capitalistica, magnificando gli stessi vantaggi ottenuti con il maggior grado di plus lavoro assoluto o relativo e storto ai proletari attraverso il processo produttivo industriale. In effetti il plus lavoro estorto al proletariato, contenuto in forma di plus valore nelle merci prodotte dall'industria capitalistica, può trasformarsi in profitto aziendale solo, attenzione solo, con la vendita successiva delle merci nella sfera della circolazione e distribuzione. Cioè avremo denaro, la produzione di merci, mi serve per creare, per avere più denaro. Se questo passaggio, più denaro attraverso la vendita, la trasformazione di queste merci. Se questo passaggio relativo alla vendita delle merci non si verifica a causa della miseria crescente, determinata innanzitutto dalla disoccupazione, dovuta al progressivo sostituzione del lavoro vivo con il lavoro moto, cioè capitale costante e macchinario, e dal concomitante aumento della sottrazione di quote del reddito e patrimonio con l'imposizione fiscale, allora il meccanismo si inceppa. E in fondo anche il capitale finanziario, in prospettiva, viene danneggiato. Infatti l'interesse finanziario si basa, in ultima istanza, sul plus lavoro, quindi il plus lavoro, abbiamo visto il plus valore, ottenuto nel processo produttivo industriale. E se quest'ultimo non si converte in profitto aziendale a causa dell'impossibilità di essere monetizzato in forma di ricavo di vendita, allora salta l'intero schema di accumulazione del capitale. E quindi anche la possibilità pratica di esistenza di un interesse finanziario, in fondo dipendente dallo schema denaro, lavorazione della merce e denaro più uno. Perché se non c'è profitto aziendale, non è possibile pagare gli interessi alle banche. I governi tecnici, in base alle precedenti esperienze storiche, sono in generale collegabili direttamente alla voracità agli interessi della parte più parassittaria della classe dominante, quella finanziaria. Dunque è prevedibile che un futuro governo tecnico miri a garantire innanzitutto un quadro dei conti pubblici con geniale reperimento del plus valore da destinare al pagamento delle cedule semestrali e annuali del debito pubblico, ripetiamolo, attraverso gli aumenti fiscali e tagli del welfare. Fermo e restando le cadute macroeconomiche negative dal lato della domanda globale, collegate gli aumenti fiscali e i tagli del welfare. Questa ricetta economica, lacrime e sangue, si collega principalmente ai cicli di recessione e contrazione. Quando la domanda non è in grado di assorbire la totalità delle merci prodotte, con conseguente crisi del settore industriale e distributivo. In realtà le imprese industriali sono costrette a produrre quantitativi crescenti di merci a caso della minore incidenza percentuale di plus valore, che è determinata dal plus lavoro, nella singola unità prodotto. minore incidenza determinata a sua volta dalla riduzione storica del capitale vivo umano, cioè delle persone, all'interno della composizione tecnica organica del capitale totale. Lo stesso quantitativo di plus valore contenuto in passato in dieci merci, merci qualsiasi, è ora disseminato in venti merci della stessa tipologia. E dunque, se l'impresa industriale volesse mantenere inalterato il suo plus valore contenuto in passato in dieci merci, dovrebbe oggi produrne venti. Ma le merci presuppongono un compratore, mentre la sostituzione dell'uomo da parte della macchina, messa in atto dalla direzione proprietà dell'impresa per ridurre i costi aziendali totali e sopravvivere alla lotta per la concorrenza, crea sovrappopolazione disoccupata, cioè persone disoccupate in più. Miseria crescente e conseguenze calo dalla domanda. Crisi da sovrapproduzione, la crisi che stiamo vivendo attora. Sono queste le apolie, cioè le difficoltà insolubile, in cui si concorrono, ci contorcono le economie, scusate, capitalistiche e i conseguenti balletti dei governi tecnici e politici che ne sono l'espressione sovrastrutturale. Bene, questa è una riflessione fatta giorni fa. Oggi si legge che, sui giornali, che il Presidente della Repubblica nomina, chiama Carlo Cottarelli. E chi è Cottarelli? Cottarelli è quello della spending review, quello che dice Repubblica di oggi online, lasciare in realtà un corposo dossier su tutti i punti di intervento possibile con risparmi quantificati in 32 miliardi. Chiusura delle partecipazioni pubbliche. Inutile, maggior tracionalizzazione, monitoraggio delle acquiste pubbliche, della pubblica amministrazione, specie locale. C'è quindi uno che ha fatto questo che ho appena letto, cioè un governo tecnico fa gli interessi del capitale finanziario. No in assoluto, perché sappiamo che il capitale finanziario è legato a doppio filo al capitale industriale, perché senza i profitti il capitale industriale, il capitale finanziario non può essere remunerato e via di seguito. Però, grosso modo, era questo. La seconda ipotesi era quella del governo politico che si proponeva. Questo governo politico che la stessa repubblica online del 24 maggio l'articolista era Maria Berlinguerno analizzava in questo articolo quello che si diceva il Movimento 5 Stelle e il Lega Nord dicevano in campagna elettorale e poi quello che si era sintetizzato e si era messo sul programma. Diceva nel contratto di governo l'espansione del settore welfare e istituzionale è notevole. Nel programma della Lega quindi cosa diceva la Lega? Le proposte relative a scuola, istituzione, cultura e pensioni questi tre settori non superavano il 13% del loro programma e anche in quello del Movimento 5 Stelle queste tematiche non superavano il 20% quindi non erano molti rilevanti. Cosa è rilevante? Al contrario nel contratto cioè quello scritto tra il Movimento 5 Stelle e la Lega alla fine le politiche riconducibili al welfare e all'istruzione rappresentano il settore di intervento più incisivo e sulla riforma della legge Fornello sull'introduzione del reddito di cittadinanza e quindi sulla spesa pubblica che le due forze politiche hanno trovato un terreno di intesa. ecco allora erano le due ipotesi che proponevo che facevo una era il governo tecnico interessi del capitale finanziario invece una politica fra 5 Stelle e Lega sarebbe invece più vicino alla ricetta fra virgolette prendendo fra virgolette perché non è proprio così che insiana miranti a creare e distribuire reddito per potenziare i consumi e rilanciare la domanda globale e quindi sarebbero vicini al capitale industriale al netto dell'intreccio fra capitale industriale e finanziario nell'SPA dove le obbligazioni rappresentano quote di prestiti e le azioni quote di proprietà entrambe negoziabili sui mercati finanziari quindi c'è comunque un intreccio tra le due cose vediamo come potrebbe articolarsi questa prospettiva in un quadro economico recessivo e basandoci sui programmi pre-elettorali di 5 Stelle Lega e alla fine sul contatto firmato da questi due partiti 5 Stelle ha proposto il reddito di cittadinanza ottenendo molti consensi nel meridione d'Italia dove si distrà un tasso maggiore di povertà e disoccupazione il reddito di cittadinanza rafforzerebbe il potere di acquisto di ampie fasse sociali precedentemente escluse dal circuito del consumo anche di beni primari 5 Stelle e Lega hanno inoltre proposto l'aldicale modifica della legge formero riportando il limite d'età pensionabile a 62 anni anche in questo caso potremmo registrare degli effetti positivi sulla domanda infatti i posti di lavoro lasciati liberi dai pensionati sarebbero almeno in parte occupati dai nuovi assunti in precedenza disoccupati i quali percepirebbero un reddito una retribuzione destinata a trasformarsi in nuova domanda di merci mentre i neopensionati continuerebbero a sostenere la domanda globale grazie all'assegno pensionistico in questa ipotesi in questa ipotesi operativa di ingegneria economica a sostegno della domanda tuttavia ha già incontrato un certo opposizione prima di tutto alcune forze politiche ma anche nei verdici degli enti pubblici dell'Inps la perplessità e i dubbi suscitati dalla proposta del reddito di cittadinanza e della proposta della cancellazione della legge fornero in effetti dal punto di vista del capitale finanziario potrebbe essere abbastanza affondati il problema principale è il riferimento delle sorze finanziarie per realizzare le due proposte secondo il Movimento 5 Stelle e la Lega tagliando gli sprechi sulla pubblica amministrazione facendo una lotta più incisiva all'evasione fiscale riducendo le pensioni più elevate si potrebbe recuperare delle risorse una strada ulteriore potrebbe essere l'aumento delle ritenute fiscali sulla rendita finanziaria cioè sugli interessi lordi dovuti ai possessori del debito pubblico e qui iniziamo a scontrarsi le due visioni cosa vuol dire aumento della ritenuta fiscale che è attualmente del 20% composto da BOT CCT e BTP sono quelli che detengono il capitale finanziario che detengono la maggioranza del debito pubblico e secondo voi questi sono d'accordo questo settore della produzione questo settore della borghesia parassitaria è d'accordo su questa cosa tuttavia tale misura in assenza di concreti provvedimenti compensativi potrebbe spingere gli investitori finanziari interni e internazionali verso altre forme di impegno dei propri capitali determinando scenari pericolosi per la sostenibilità dei conti pubblici infatti ieri sera abbiamo sentito Mattarella e io devo difendere i risparmi degli italiani lo Stato sarebbe chiamato a restituire una parte del debito pubblico ai suoi possessori con tutte le ripercussioni prevedibili dunque si comprende bene come la strada chinesiana implicata nell'ipotesi sul reddito di cittadinanza e sulla proposta di cancellazione della legge Formero alla luce di un interesse capitalistico predominante ovvero quello della frazione ultra parassitaria della borghesia legata alla rendita finanziaria incontri degli ostacoli impegnativi innanzitutto di natura sociale il peso e il potere della frazione ultra parassitaria della borghesia finanziaria e in via derivata di tipo tecnico contabile il perimetro delle risorse finanziarie per realizzare le due proposte vedremo nelle prossime settiane come andrà a finire ma concludo questa riflessione che invito tutti a fare quindi non appassionarsi tanto ad essere partigiani da una parte all'altra ma i proletari essere partigiani di loro stessi mancano manchiamo soprattutto noi dallo scenario politico dopo si è svolta per esempio una manifestazione sabato 26 maggio contro gli infortuni e le morti sul lavoro ma è una manifestazione non è un blocco della produzione non è una presa di forza per la riduzione dell'orario di lavoro contro l'aumento della disoccupazione non c'è una presa forte d'atto nei confronti dell'introduzione massiccia dei robot cosa che volevo parlare anche ma gli eventi questa sera ma gli eventi hanno la precedenza quelli del governo ma ne riparlerò che creano disoccupazione come dobbiamo uscirne noi come classe operaia come proletari come dobbiamo dire la nostra in assenza di questo in assenza della nostra presenza la politica è come il vuoto cioè come la natura il vuoto non esiste noi quindi non occupando questa scena politica non esistiamo esistono soltanto secondo me questi due interessi forti che si contrappongono noi non esistiamo e non esisteremo finché non entriamo in scena con le nostre rivendicazioni con le nostre scioperi mettendo in crisi questo sistema per il suo superamento e per una diversa economia riflettiamo un attimo su questo e vi saluto a tutti spero di di aver fatto un po' chiarezza su che sta secondo me avvenendo in questo periodo vi saluto a tutti ciao e alla prossima fra prossimi 15 giorni ciao